La festa del mare e calamiterà l'attenzione di turisti e residenti nel fine settimana a Capodorlando. La manifestazione, giunta alla quinta edizione, si svolgerà su lungomare Andrea Doria dalle 19 alle 24, da stasera fino a domenica 27. Esti propone di mettere in risalto le tradizioni gastronomiche e marinare con degustazioni di piatti tipici realizzati dai ristoratori orlandini. Si tratta di un appuntamento ormai fisso dell'estate a Capodorlando, commenta l'assessore al turismo Rosario Milone «Vogliamo celebrare il nostro mare e i piatti tradizionali nel migliore dei modi, puntando su una sinergia collaudata con i ristoratori e i pescatori orlandini». Oltre alla festa del mare, stasera alle 20 allo stadio comunale Ciccino-Micale si sfideranno in un incontro di calcio valevole per il secondo Memorial Lorena Mangano, la nazionale italiana calcio Donatori Organi e una rappresentativa delle forze dell'ordine. Inoltre domani, sabato 26, consueto appuntamento con le balere al Castello Bastione e al Parco Scafa alle ore 21.30. Intanto prosegue fino al 3 settembre allo spazio lock della biblioteca comunale al Castello Bastione Unica la colazione della mostra Vita e Pesaggio di Capodorlando. Continua infine la prevendita su Ticket One etichettando del musical Jesus Christ Superstar che si svolgerà il 31 agosto al porto turistico di Capodorlando.